Siamo con Marco Zennaro, responsabile marketing della New Sky, la casa editrice proprietaria dei marchi Coffee Trend e Molto Tostato, due riviste del settore di grande autorevolezza. Buonasera innanzitutto agli amici di VendingTV.it, io sono responsabile marketing e comunicazione di New Sky, che è la casa editrice, a cui sono riferite due pubblicazioni professionali del circuito della torrefazione. Coffee Trend è Molto Tostato, il motivo per cui noi siamo qua, oltre a una bella partnership che abbiamo instaurato con il dottor Pennisi, che è responsabile di questa manifestazione a Catania, è quella di avere la possibilità di creare un confronto con le torrefazioni e quindi con tutte le novità, gli appuntamenti, le trasformazioni e le problematiche riscontrate costantemente dagli operatori di settore. Coffee Trend è una rivista che è presente nel mondo del caffè da diversi anni. Molto Tostato è una rivista che ha una grafica estremamente accattivante e dei contenuti di strabiliante interesse. Ce ne puoi parlare? Sì, allora diciamo la sostella differenza tra Coffee Trend e Molto Tostato è il circuito distributivo. Molto Tostato potremmo annoverarlo diciamo come un notiziario, un notiziario che viene pubblicato mensilmente andando a sviscerare tutti quei dati correlati alle analisi di borsa, il panorama cafeicolo soprattutto su ambiente italiano e viene redatto ogni mese al circuito delle torrefazioni nazionali. Coffee Trend è invece la rivista di riferimento che non si rivolge soltanto al circuito delle torrefazioni italiane ma viene diffuso anche nei paesi a livello europeo, quindi parliamo di Francia, Spagna, Svizzera, Austria, Germania e anche con due edizioni collaboriamo con delle importanti realtà e associazioni del circuito cafeicolo che sono la Speciality Coffee Association of America, la SCA e la SCAJ in riferimento al mercato giapponese a cui noi siamo sempre presenti come a questa fiera con una distribuzione di migliaia di esemplari delle nostre pubblicazioni che va a complementare quel lavoro che ci vede sempre costantemente diciamo nelle aziende delle torrefazioni, sia a livello italiano quindi con molto tostato, sia a livello italiano per sei numeri con Coffee Trend più le edizioni del circuito estero. Coffee Trend è sempre più presente nelle fiere dedicate al Vending, eravate presenti a Venditalia, a Vending Paris, qui a Catania, perché? Allora beh fondamentalmente il settore del vending, noi stiamo parlando che dai dati insomma che sono in possesso un po' di tutti il 70% è riservato a bevande calde, hot beverage tra cui sicuramente il caffè la fa da padrone. Consideriamo il circuito vending, consideriamo il circuito dell'OCS, dell'Office Coffee System o anche il famoso FCS, Family Coffee System, ovvero tutte quelle macchine che vengono distribuite al circuito dei privati e delle famiglie, oggi rivestono un ruolo sempre più importante e hanno un peso sul mercato sempre più preponderante. In questo senso anche la nostra rivista guarda il futuro creando un tessuto di comunicazione di confronto anche con le associazioni che riguardano prettamente il vending. Naturalmente il nostro compito è unicamente fornire dei dati e andare ad effettuare delle analisi su un discorso legato al caffè a cui si completa anche il discorso delle bevande calde e dei solubili. Molto bene e noi seguiremo con estrema attenzione anche gli sviluppi del rapporto tra Coffee Trend e il vending insieme alla New Sky, casa editrice proprietaria del marchio Coffee Trend e molto tostato. Ringraziamo dunque Marco Zennaro per la cortese intervista. Si è stato un piacere, buonasera a tutti. Saremo ancora con lui e con Coffee Trend prossimamente per alcune piccole nuove sorprese da dedicare a tutti i nostri telespettatori. Per il momento è tutto, Fabio Russo, benintv.it, Catania. Grazie a tutti.